Niente pause, niente tregue, si torna in campo ed Avellino necessariamente finisce già in archivio. Non c'è tempo per pensare ma solo voglia di rialzarsi allo Zaccheria. Domani sera alle 21 il Foggia sfiderà il Monopoli, una delle sette finali che separano i rossoneri dal termine della stagione regolare. Partita assolutamente da vincere ma per somma c'è da fare i conti con l'emergenza. Il tecnico ha perso per squalifica Ogunseie e Di Pasquale. Peserà soprattutto l'assenza del primo, ormai punto di riferimento della prima linea. Out anche gli infortunati Schenetti e Di Noia, ancora non perfettamente al meglio Vacca e Beretta. Insomma uomini contati e certezze da cui ripartire. Tra queste il laterale Filippo Costa a cui è toccato il compito dell'analisi pre-gara. Ad Avellino è stato un incidente di percorso, dobbiamo viverla così, mettercelo alle spalle, ripartire dalla reazione che abbiamo avuto ottima nel secondo tempo. Se fosse stato un incontro ipugirato penso che i punti, il risultato l'avremmo portato a casa noi. Però si parla di calcio, quindi conta il risultato finale. Ma guarda, se avessi la medicina avrei già data dopo la prima volta, dopo il Cerignola che abbiamo perso 3-2. Sembra una costante ma non è così. Cioè sì, i risultati dicono che è così perché è il quarto 3-2 se non mi sbaglio che subiamo. Purtroppo la medicina non ce l'ho e l'unica medicina che conosco è il lavoro e la professionalità che mettiamo tutti i giorni in campo. Sarà una partita di cartello perché è uno scontro diretto. Noi sappiamo l'importanza della partita ma anche i giocatori del Monopoli la sanno. Sarà una partita tosta dove ci sarà da soffrire, però giochiamo in casa e questo sarà un'arma in più per noi. Penso che cambierà il nostro modo male di giocare un pochino, non so dirti adesso cosa cambierà. So solo che chi giocherà al posto di Roberto come chi giocherà al posto di chiunque. La forza di questa squadra è il gruppo perché chiunque gioca sa quello che deve fare e fa sempre la prestazione. Poi può sbagliare dal punto di vista tecnico, però sotto l'aspetto mentale non sbaglia la partita. L'obiettivo è domani sera alle 9, la partita con il Monopoli. Archivata la partita con il Monopoli l'obiettivo è Cerignola. Dobbiamo guardare di partita in partita senza fare tanti calcoli. Noi sappiamo che se noi vinciamo tutte le partite adesso arriviamo a quarti, quindi ci teniamo lo stretto al quarto posto. Poi se viene un passo falso da parte di qualcuno dobbiamo farci trovare pronti vincendo e puntare a qualcosa in più. L'obiettivo è di partita in partita sotto l'approccio, come approcciamo la partita, non sbagliare l'approccio. Grazie. 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 Grazie.